Una nuova puntata con segnali di distensione nella Nosa Karel tra Unicredit e BDS per il rinnovo del CDA e le nomine dirigenziali in seno all'Istituto di Credito Siciliano. L'incontro ieri tra la D della Holdin milanese Profumo, il governatore della regione siciliana Salvatore Cuffaro e il presidente della Fondazione Banco di Sicilia Gianni Puglisi ha sortito un'intesa di massima su basi non traumatiche per tracciare una nuova linea operativa e gestionale dell'Istituto. Dopo la guerra fredda con il presidente del Banco Salvatore Mancuso, il quale aveva delegittimato la nomina direttore dell'Istituto dell'Uomo Unicredit Roberto Bertola investendo del ruolo il fido Giuseppe Lopez, Profumo ha annunciato una rivoluzione più morbida nella forma, un po' meno nella sostanza. L'azzeramento e l'attuale ribelle CDA avverrà tramite le dimissioni dei consiglieri Unicredit più quelle della Dian Selmi e il rinnovo dell'organigramma dirigenziale di Piazza Lungheria dovrebbe concretizzarsi entro la prossima settimana. Tra i candidati a presiedere il nuovo CDA, l'ex direttore Cesare Caletti e l'ex amministratore BDS Gianfranco Imperatori, Bertola entrerà nel board, mentre Lopez, gradito ai dirigenti locali, manterrà il suo ruolo di direttore generale. L'intesa tra Profumo e Cuffaro ha prodotto il rinnovo della convenzione Regione Unicredit fino a luglio, con due nomine del CDA, Discrezione e la Regione, e due spettanti alla Fondazione Banco di Sicilia. Cuffaro ha ottenuto garanzia dai vertici di Piazza Cordusio, che verranno reinvestiti in Sicilia capitali pari alle risorse raccolte e che i prestiti dai 3 ai 7 milioni di euro saranno di esclusiva pertinenza del BDS. Puglisi ha inoltre ottenuto da Profumo l'impegno per la realizzazione di un osservatorio economico nell'isola coordinato dalla Fondazione Banco di Sicilia. Regione Sicilia e Fondazione BDS manterranno così la loro quota di partecipazione azionaria nella holding finanziaria milanese.